Ci sono profumi che dicono tanto, tantissimo, dei loro nasi, ovvero dei loro creatori. Questo profumo qua, Poire Primitive, è il primo profumo creato da Claudio Zucca, quindi diciamo della trilogia appena uscita, questo è il primo che lui ha creato. È un profumo apparentemente molto semplice, da una piramide olfattiva abbastanza lineare e semplice, ma che dice tanto, tantissimo, circa la raffinatezza di questo naso e circa il suo amore per il mondo dei profumi. Abbiamo un'impostazione molto standard, apertura agrumata, bergamotto e mirtillo, un cuore di vaniglia e lavanda e un fondo di legno di cedro, ambroxan e moschivari. Detta così potrebbe sembrare veramente una fragranza semplice, standard, invece no, perché Claudio, giocando con questo mirtillo, con questa vaniglia e con questa lavanda, e dando un fondo di legno di cedro, ha creato una fragranza molto gioiosa, particolarissima, profonda, vellutata, questo connubio, mirtillo, vaniglia, è meraviglioso. La lavanda lo rende ancora più pulito, il bergamotto lo rende ancora più gioioso, il mirtillo gli dà quella punta di sensualità, ti stuzzica curiosità, ti stuzzica voglia di odorare ancora di più, entusiasmo, un profumo che genera veramente entusiasmo, roba da grandi, soltanto un grande naso è in grado di fare una cosa del genere, e si vede che questo ragazzo la sto faccia là.